. Mavenier in gran forma. Chi accederà alla semifinale del 2 dicembre? . Tussi Quevales 2017, anticipazioni e diretta, Belen Rodriguez e Martin Castro Giovanni presentano gli ultimi talenti prima di svelare i nomi dei semifinalisti. . Mavenier in gran forma e questa è la notizia che serviva al pubblico per presentarsi carico davanti allo schermo per questa nuova puntata di Tussi Quevales. . Lo show sta per arrivare al capolinea e lasciare posto a Maria De Filippi e il suo che posta per tema, intanto, si prepara alla semifinale in onda il 2 dicembre prossimo, lasciando a casa gli ultimi eliminati che saranno annunciati durante la puntata di questa sera. . 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 Il 2 dicembre. Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni presenteranno così gli ultimi artisti pronti a stupire la giuria che, come sempre, sarà composta da Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teuma Mugari mentre la giuria popolare sarà guidata dallinsostituibile Mara Vernier. . Ballerini, cantanti, giocolieri, vignettisti, imitatori, illusionisti, comici, cabarettisti, contorsionisti, circensi, cartomanti, pittori e tanti altri talenti sono pronti a strappare il biglietto per la semifinale. . Al termine della puntata, infatti, saranno svelati i nomi dei performer che accedono al penultimo atto del talent show di Canale 5. Chi conquisterà la semifinale per tra gli artisti della scuderia Scotti?. . Oltre al circuito ufficiale, a Tossi Cuevales 2017, c'è anche un circuito ufficioso in cui i talenti più stralunati entrano a far parte della scuderia Scotti. . Di fronte a cantanti, attori e ballerini che arrivano sul palco convinti di avere talento anche quando manca, Gerry Scotti sveste i panni di giudice per indossare quelli di impresario e far entrare nella propria scuderia i talenti che, durante la puntata finale del programma, si contenderanno il premio di Tossi Cuevales. . . Le regole per i talenti della scuderia Scotti sono uguali a quelle dei talenti di Tossi Cuevales 2017. Spetta alla giuria e al pubblico decidere se l'avventura può continuare o finire. . . Anche tra gli artisti di Gerry Scotti, al termine della puntata, saranno svelati i nomi dei semifinalisti. Quella di questa sera, dunque, è assolutamente una puntata imperdibile in cui non mancheranno le emozioni, il divertimento e le cose. . Come ogni settimana, dunque, sono tanti i motivi per restare sul divano e trascorrere alcune ore all'insegna della spensieratezza. Senza dimenticare le sorprese che lasciano sempre senza parole i giudici e i conduttori. . . Sin dalla prima puntata, infatti, ci sono state sfide di torte, schiuma e battaglie di cuscini. Cosa succederà, invece, stasera?. .